Dopo la vittoria nel prologo la giovanissima bergamasca Martina Fidanza ha vinto la prima tappa in linea del giro della campagna in rosa sul traguardo di via Caracciolo a Napoli. La corsa si è conclusa con uno sprint di gruppo dopo un breve tentativo di Asia, Paladin ed Elena Franchi, ma la porta colori di Euro Target Steel Bike già in maglia bianca di leader della corsa si è imposta davanti a Letizia Paternoster e Michela Balducci. L'emozione che ho provato quest'oggi è stata davvero grandissima perché non ero mai stata a Napoli e arrivare in questa grandissima città è stata davvero emozionante, è una città spettacolare, non me l'aspettavo fosse davvero così, mi ha emozionato molto. Nelle prime dieci posizioni si sono piazzate Allegra, Maria Arzuffi, Anastasia Carbonari, Vittoria Guazzini, Marta Cavalli, Elena Franchi, Francesca Pattaro e Daria Ergova. A premiare la vincitrice sul traguardo napoletano, l'assessore allo sport del comune di Napoli Ciro Borriello e il presidente della banca di credito cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo. Il Giro Rosa è una bellissima iniziativa, appunto il ciclismo rosa è uno di quegli sport su cui noi stiamo puntando, vogliamo come dire che si propaghi sempre di più. È chiaro che questa dimensione è quella insomma che noi per il momento riusciamo ad offrire, è chiaro che candidiamo alla città così come per altri eventi anche a una tappa del Giro d'Italia. L'arrivo qui alla Rotonda Diaz è un'altra espressione importante di quanto Napoli possa essere vicino a essere scenario, essere vicini a tantissimi sportivi. Il ciclismo è uno sport nobilissimo anche nel mondo femminile e che naturalmente in questi ultimi anni a partire dal Giro d'Italia che passò per Napoli ha avuto un grande risvolto positivo e tantissimi napoletani, soprattutto con le tante piste ciclabili, si stanno avvicinando a questo sport.